come digitare punto e virgola da tastiera molto semplice cari utenti di youtube vediamolo in questo semplice tutorial di oggi tengo premuto il tasto maiuscolo che è questo seguito dal punto e virgola che è presente vicino al tasto dei due punti ok tengo premuto maiuscolo e punto e virgola guardate voi utenti di youtube tengo premuto il maiuscolo ripeto per la centesima volta e poi schiaccio ogni tanto il tasto dei due punti se lo tengo premuto schiacciato quindi mi appare in serie a me non interessa di averli in serie mi interessa vederli apparire ogni tanto una tanto va bene ripeto tengo schiacciato il maiuscolo seguito dal tasto punto e virgola ok cari utenti di youtube bene spero di esservi stato di grande aiuto in questo tutorial semplice di oggi iscrivetevi se vi va commentate datemi la vostra opinione mi raccomando ci tengo ad averla al prossimo video da leandro il narratore italiano di youtube italia grazie al prossimo tutorial